Il Comune di Padova aderisce alla campagna Stoppa le bombe sui civili, promossa e coordinata dall'Associazione Nazionale Vittime e Guerre Civili, in rete con campagna italiana contro le mine, rete italiana Pace e Disarmo. Larga parte delle vittime nei conflitti è rappresentata da civili, divenuti ormai il target principale della violenza dei conflitti armati, con una proporzione che attualmente si gira intorno all'80%. Le cause di questo drammatico fenomeno sono molteplici, ma una delle principali è l'incremento esponenziale dei bombardamenti dei centri abitati. Stoppa le bombe sui civili è lo slogan della campagna. Il Comune, su proposta del Lanci, ha aderito alla campagna con una delibera di giunta e con la sua adesione si è impegnato a promuovere all'interno del proprio territorio le campagne di sensibilizzazione e informazione sulla violenza esplosiva sulle popolazioni civili e a indirizzare alla Commissione esteri e gruppi per i diritti umani della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica l'invito a sostenere attraverso idonee iniziative di indirizzo parlamentare il percorso diplomatico per l'adozione delle dichiarazioni politiche internazionali sulle armi esplosive, al fine di garantire migliore protezione e assistenza umanitaria alle popolazioni civili coinvolte loro malgrado nelle guerre urbane.